Il tripleto degli scudetti in provincia è compiuto. Dopo lo che esago il famila schio, anche il Re Calacca Valdagno centra il traguardo del tricolore cucito sul petto. Contro il Viareggio i lanieri centrano il terzo tricolore della loro storia dopo aver superato in tre gare gli avversari toscani. Il 10-3 per i Valdagnesi non lascia spazio a dubbi e consegna la storia dello sport e alla gioia dei sempre numerosissimi ultras biancazzurri, gli eroi della Re Calacca. Lo sport della provincia dunque torna alla ribalta nazionale grazie a esperienze sportive lontane dalla città e che funzionano in maniera brillante come catalizzatore sociale, ma anche come veicolo promozionale per gli stessi paesi e per gli sponsor che gravitano attorno a queste realtà. Esempi evidenti e cristallini di come alla passione di una comunità possano crescere anche interessanti e profittevoli argomenti economici. Grazie.